Il territorio bolognese è tra i più ricchi d'Italia ma viaggia a velocità diverse. La maggior parte dei comuni cresce ma un gruppo rimane avviluppato nella crisi. Lo dice il Ministero dell'Economia che disegna una provincia che annovera i redditi medi tra i più alti della penisola ma anche una montagna che continua a perdere terreno. I dati sono basati sulle dichiarazioni 2017. Balza subito all'occhio un sorpasso in testa alla classifica dove spunta sorpresa sul gradino più alto del podio il comune di Monte San Pietro con una media di 29.518 euro a contribuente un boom del più 12,5 per cento in un anno superando San Lazaro di Savena da anni al comando e che ora si deve accontentare della medaglia d'argento con 28.435 seguita dal capoluogo Bologna poco più di 27.000 e Sassomarconi ai piedi del podio con 26.637 euro l'anno. Complessivamente in provincia il reddito medio è di 25.083 euro circa 290 in più rispetto al dato delle dichiarazioni 2016. Oltre ai quattro comuni più ricchi gli altri sopra la media della città metropolitana sono Zola Predosa, Pianoro, Castenaso, Casalecchio di Reno, Granarolo e Ozzano delle Miglia. Ma a parte Zola Predosa e Ozzano che vedono i redditi medi crescere intorno al 2 per cento per gli altri le variazioni sono più contenute. Ma è sul medio periodo che si possono valutare meglio i cambiamenti delle dinamiche dei redditi. C'è chi sale in maniera netta a Bentivoglio e passati in appena un quadriennio dal ventesimo posto balzi in avanti anche per Sant'Agata Bolognese e Crevalcore. Ma ci sono anche municipi che si sono impoveriti. Minervio e Malalbergo hanno visto flessioni minime mentre in montagna il 2016 è stato un anno da dimenticare. I cinque comuni in cui il calo è stato più pesante sono tutti in Appennino a partire da Gaggio Montano nell'anno della vertenza Saeco. I contribuenti hanno perso lo 0,59 per cento del loro reddito, vale a dire 120 euro a testa. Cali torna l'1 per cento anche a Castiglione dei Pepoli, Lizano in Belvedere, Monghi d'Oro, Porrette, Granaglione. Appennino che soffre dunque con una sola lieta eccezione. Castel del Rio, storicamente il comune con i redditi più bassi del territorio, registra nel 2016 una media di 17.923 euro. È sempre il dato peggiore però con una crescita del 2,37 per cento.